Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Magia delle Storie. Oggi vi farò conoscere Dimitri Ruggeri. Benvenuto. Ciao a tutti. Grazie Dimitri. Dimitri è un poeta, performer vocale, ha scritto tantissime raccolte di poesie, la trilogia Parole di Grano, Status d'Amore, Carnem Levare il Cammino. Tra l'altro con la raccolta di poesie Il Marianaio di Saigon ha vinto il premio della critica, mio esordio, che fa parte poi del gruppo L'Espresso. Ha dedicato un'intera raccolta di poesie, soda caustica, alla tragedia del terremoto del 1915 che colpì tutta l'Italia centrale. Ed è l'unica raccolta interamente dedicata a questa tragedia grandissima. Oltre a tantissimi reportaggi e narrativi che tu hai realizzato viaggiando in tantissimi paesi per il mondo. Insomma, poesia, versi e la bellezza dell'arte. Questo un po' caratterizza Dimitri. Dimitri, con i social, i video, internet, secondo te quanto è cambiato il modo di fare poesia, ma anche di comunicarla, di promuoverla? Beh, è cambiato tutto. È cambiato il paradigma. La poesia è fondamentalmente un linguaggio che appartiene al... Quando noi parliamo per esempio di testo, la parola testo non fa riferimento allo scritto, ma fa riferimento alla tessitura che è un elemento di una cultura orale. E quindi dipende dal paradigma. Quando parlo di poesia orale, il medium chiaramente è la voce. Con tutti questi strumenti social è chiaro che ci metto il video, ci metto la fotografia, ci metto la performance, ci metto soltanto la voce. E con questo si sono creati degli ambiti interessanti, anche ideologicamente parlando, interessanti, come il libro scritto che potrebbe essere visto come una sorta di prigione delle parole, ma anche la riproducibilità delle stesse, piuttosto che una visione legata a una performance, di una lettura, di una poesia che è un evento unico e irripetibile per il fruitore, in questo caso per il pubblico. Quindi è cambiato tutto e si basa tutto su questi cambiamenti che stanno avvenendo con l'MP3, con i video, io poi faccio video poesie, è poesia, sì, rappresentazioni di massa quali poi Trislemma, è poesia, sì. È chiaro che il limite della tradizione che poi deve essere tradita, noi siamo abituati a leggere, a immaginare tutto sul libro, deve essere un po' decontestualizzato e bisogna guardare non solo il testo quindi, ma il sovrattesto, quello che c'è prima e quello che c'è dopo. E i social comunque sia ci aiutano, ecco, sempre punti di forza, ma anche dei punti di debolezza come possiamo immaginare. Certo, i punti di forza immagino che siano soprattutto quelli relativi alla maggiore immediatezza, arrivi comunque a più gente senza tanti filtri, c'è più condivisione, e poi secondo me la voce è uno strumento potentissimo per trasmettere emozioni, versi, quindi la trovo comunque alcuni cambiamenti insomma sono positivi. Sì, esatto, la poesia è prima di tutto voce, suono e ritmo, la poesia nasce con l'uomo, nasce con il contatto fisico del neonato con il seno della madre, dove si genera un suono che poi viene ripreso nelle tradizioni orali con le favole, con le ripetizioni, con il ritmo, il ruolo della memoria. Quindi la voce è prima di tutto suono, abbiamo Demetrio Stratos e probabilmente ha fatto della voce, come dire, il suo ambito irraggiungibile quasi, perché comunque noi nasciamo immaginando proprio questi processi legati al ritmo e è tutto ritmo. Vero, è vero. Ma sarà anche per questo che nel marinaio di Saigon, appunto lo nominavo prima, questa raccolta di poesie che ha vinto anche il premio della critica, mio esordio, tu definisci il poeta proprio come un marinaio, anzi come dici in un'intervista, come un pirata che veleggia contro la poesia tradizionale. Cosa non ti piace nella poesia tradizionale? Allora, io accetto tutto, nel senso dico non precludersi mai le diverse forme che ci possono essere, perché oggi se non abbiamo capito che la videopoesia è comunque poesia, ma non una branca minore, o la poesia visiva che è poesia, non andiamo molti avanti. Quindi tradire la tradizione, dove noi, è anche una storia molto recente, perché se immaginiamo performance particolari di Rotella, per esempio, come la poesia del silenzio, erano comunque sia delle performance, cioè dobbiamo andare oltre. La poesia, così come l'arte, ti deve far vedere il mondo in modo diverso e lo puoi vedere soltanto tradendo il presente per avere una visione che ti possa portare a utilizzare un linguaggio per rappresentare meglio il futuro. Questo è il ruolo un po' dell'arte. Ed è l'arte, infatti, perché l'arte comunque tende a evolvere in base al mondo, alla realtà, alla società in cui vive. Quindi è anche giusto che rappresenti, che sia una sorta di specchio di quello che accade. A proposito, tu hai citato prima i Poetry Slam. Tu sei stato l'organizzatore del primo Poetry Slam in Abruzzo e di uno dei primi del Centro Sud. Spieghiamo cosa sono questi Poetry Slam. In realtà io parto dal presupposto che essere poeta, artista, comunque gioca in te stesso una sorta di conflitto. E tutto quello che genera conflitto genera, come dire, miglioramento. L'uomo è sostanzialmente un uomo ludens, giocoso. E mettere in un Poetry Slam, che non è altro che una sfida tra poeti che si scontrano leggendo i propri tesi, a essere giudicati, c'è una giuria estratta a sorte dal pubblico. È una performance dove il protagonista non è né il poeta, né il pubblico, oppure il conduttore che si chiama maestro di cerimonia, che è un termine mutuato dall'hip hop, ma è tutta questa massa, questa collettività che porta a dialogare, a raggiungere un punto di discussione, un punto di riunione, la poesia che si riappropria, o l'arte in generale, o la critica che si riappropria della collettività. E questo è il ruolo, se vogliamo dire, che è stato un po' tralasciato dalla scrittura, tant'è che anche i famosi romanzieri negli Stati Uniti oggi hanno sui contratti scritti, come dire, le letture ad alta voce, perché è anche bello, magari non bisogna essere degli attori qui, chiaramente, sentire però il suono e la voce che esce dal… Poi è chiaro ci possono essere dei limiti, però lo slam, ecco, io ho avuto l'onore di portarlo in Abruzzo nel 2010, nel 2016, anche nel Molise e solo in Abruzzo abbiamo creato un movimento di… hanno girato circa 200 partecipanti, dove i testi che vai a rappresentare devono essere chiaramente i tuoi. E poi è stato creato questo circuito nazionale, che è la Lips, Lega Italiana Poetry Slam, che ha generato proprio un campionato regionale, nazionale, europeo, addirittura mondiale. È un fenomeno, è un gioco, è un fenomeno comunitario, come dico io, e questo ha creato anche la formazione di tanti collettivi che in Italia fungono un po' da trade union e punto di riferimento, dove si fanno questi slam, ne sono circa ormai 300 in tutta l'Italia. Bello però, mi piace tantissimo. Tanta gente, sì. Eh sì, infatti, bello. E riguardo la tua poesia, cioè il saggista e critico Vittoriano Esposito, lui definisce la tua poesia una poesia di reportage. In che senso? Allora, intanto Vittoriano Esposito è stato quello che mi ha, come dire, un po' introdotto, è stato un po' il padre di molti ragazzi, giovani una volta, che si sono avvicinati alla poesia. Quindi ormai non c'è più, però ha dato tanto al territorio e tanto ha dato a me. Lui definì la mia poesia, la poesia di reportage, in realtà, quando gli proposi degli scritti che realizzai in Libano, facendo un progetto con The Blog TV e il Servizio Civile Internazionale, che era un blog che riguardava la creazione di blog in diversi villaggi del Libano, dove si insegnava ai ragazzi la fotografia e il video. E io ci misi anche la scrittura, la poesia in questo caso. E era una poesia, dove io invitavo i ragazzi a scrivere sul blog questi testi, io in prima persona mi ci sono cimentato, era una poesia molto tradizione, molto... andava all'essenza, senza fronzoli, andava direttamente alla descrizione della maceria, del sangue. Perché lì c'era anche un grosso problema dell'inquinamento, per esempio, perché non c'era neanche una cultura di questo genere, non l'abbiamo neanche noi ancora, però lì buttano le notizie per strada, così come un po' in tutti i paesi in via di sviluppo, perché manca questo tipo di cultura. E noi stavamo lì per fare questo tipo di sensibilizzazione. Quindi è un tipo di poesia che va, cerca di andare all'essenza, molto, come dire, di cronaca, potremmo dire, che è anche al concetto di poesia. E lui la definì di reportage in questo senso, anche se poi lascia il tempo che trova, perché ogni definizione... Vabbè, certo, ogni definizione giustamente tende un po' a vincolare, però sì, rende anche l'idea che viene tolta tutta la parte forse più enfatica, più sentimentale, quindi va proprio alla sostanza, all'essenza delle cose. Bene. Allora, io ho chiesto a Ruggeri, a Dimitri, di portarmi un testo, in modo tale che lo potesse leggere e ci regalasse un brano letto da lui. Io non so cosa abbia scelto, quindi invito Dimitri a regalarci questo brano. E' la mia faccia, amico. Non ho fatto nulla di grave, amico. Ti prego, ti prego, ti prego, non riesco a respirare. Ti prego, amico, qualcuno mi aiuti, ti prego, amico. Non riesco a respirare, non riesco a respirare, ti prego. Amico, non respiro, la mia faccia, devi solo alzarti, non riesco a respirare. Ti prego, un ginocchio sul mio collo, non riesco a respirare. Merda, lo farò, non posso muovermi. Mamma, mamma, non ce la faccio, le mie ginocchia e il mio collo, sono finito, sono finito. Sono claustrofobico, mi fa male lo stomaco, mi fa male il collo, mi fa male tutto, un po' d'acqua o qualcosa. Vi prego, vi prego, non riesco a respirare. Agente, non mi uccidere, mi stanno ammazzando. Ti prego, amico, non riesco a respirare, non riesco a respirare. Mi stanno ammazzando, mi stanno ammazzando. Non riesco a respirare, non riesco a respirare. Per favore, Signore, ti prego, ti prego, ti prego, non riesco a respirare. Allora ho scelto in realtà per stare a tema questo testo al di là dell'aspetto politico dei diritti umani, è un classico esempio di George Floyd, queste sono le ultime parole, in realtà gli ultimi suoni per tornare a quello che abbiamo detto prima, l'ultimo respiro perché la poesia in questo caso è il respiro. Quindi qui non so se può essere intesa come poesia, per me lo è una poesia che in questo caso va oltre sia sotto un punto di vista strutturale perché per me è suono questo testo e anche con la ripetizione delle parole va molto all'essenza, va al dolore. Quindi ho voluto leggere questa, fatto fermo restando che ci sono tanti George Floyd in Italia dove magari ci siamo mobilitati per lui ma lo dobbiamo fare un po' per tutti, contro i fascismi e gli abusi di ogni genere. Come dici tu va all'essenza ed è per questo che è ancora più dolorosa, che arriva ancora di più perché proprio quando racconti vai proprio al nocciolo delle cose senza sovrastrutture, troppa retorica, troppo sentimentalismo in realtà ti arriva veramente al cuore. Sì, diciamo io non ho un ordine perché nel Mariano di Segon io lo defino molto baroccheggiante, è molto ricco di sovrastrutture, però dipende sempre da come si costruisce il pensiero che in questo caso diventa poesia perché non c'è poesia senza pensiero e viceversa. E quindi bisogna sempre capire bene il contesto e essere abili per quanto possibile nell'adattarsi alla situazione. Bene, bello. Io so anche che tu insegni, fai seminari, workshop sulla poesia, scuole, associazioni, insomma ti muovi tanto e benissimo in questo mondo. Come si può insegnare, questa è la domanda che penso ti faranno in tanti e che facevano anche a me quando a me è sempre piaciuto seguire i vari corsi, i seminari un po' in giro per l'Italia negli anni. Come si insegna la poesia? Hai un modo, un metodo? Ma non lo so se si può insegnare, credo che si vada un po' per conoscenza. Cioè io nei miei seminari cerco di mettere le persone o chi è lì, far conoscere degli aspetti non tradizionali, no? Quindi quando faccio vedere anche a video un poetry slam che cosa... Ah ma la poesia quindi può fare anche questo? Viene dal rap, come dire, le origini del poetry slam e dalle battle che facevano. Perché il rap comunque è la nuova poesia, possiamo dire piaccia o non piaccia, ma è la nuova poesia. Quindi insegno a allargare gli orizzonti. Poi è chiaro, ognuno deve costruire un percorso, però devi sapere che esistono più sfaccettature, più aspetti del linguaggio fondamentalmente. È vero. Allora Dimitri, il nostro tempo corre via. Intanto grazie tantissimo per essere stato qui con me, mi ha fatto davvero piacere. E come si sa, io chiudo sempre ogni incontro con una citazione, una frase, un qualcosa che sia in sintonia con il mio ospite, però a questo punto avendo un poeta seduto qui accanto a me, non posso che lasciare a lui il piacere di chiudere il nostro incontro. Ha scelto, credo, una poesia, una sua poesia, stavolta chiudiamo con una sua poesia. Dimitri, a te la chiusura. Beh, utilizziamo, cerchiamo di leggere una poesia di Soda Caustica. Che ricordiamo appunto è la raccolta dedicata al centenario del nostro terremoto. Sì, poi questa ha seguito anche una raccolta Radon sul terremoto dell'Aquila, dieci pasticche di poesie. Allora, questa è la storia di Donna Marisa, quindi ho immaginato questa scena nel terremoto. Donna Marisa, indomita donnaccia di tutti, guai dal piacere, il suo ultimo piacere, frutto del dovere, dovere di puttana. Si appallottolava le calze bucate dal verde cotone delle coperte e Marcello, col busto dalla fatica di garzone trasparente, uscì dalla porta incernierata, con la sua ultima notte imprigionata nella pattina rattoppata. Il suo ultimo piacere era frutto del dovere, dovere di puttana, reietta e dimenticata. Donna Marisa, o mia puttana, io ti amo ancora, dove hanno interrato la tua sottana? Che bella! Ho immaginato un bordello avezzanese del terremoto che non so se c'è stato, ma l'ho immaginato così, immagino di sì, come ogni vecchio mestiere. Esatto, grazie, chiusura perfetta per il nostro incontro, grazie ancora a Dimiti, grazie a voi che ci avete ascoltato, ci vediamo alla prossima puntata della Magia delle Storie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.